Ma qui c'è crush significa che... E' crush! Che cosa state facendo? Dimmi un po' Stiamo provando a mettere il pezzo dove accade il fondo No, stiamo cercando di mettere il pezzo in cui la canzone fa tipo che casca qualcosa Nel momento in cui il caderno è forte nel video che ci ha fatto vedere sia a metà Ok, quindi voi avete preso un video muto, giusto? No, muto, ma che canta delle canzoni elettriche suoi dal computer Ok, avete scelto una colonna sonora? Si, si Che colonna sonora avete scelto? Elettrica Una colonna sonora, una musica elettronica Elettrica, elettronica Ok, perché avete scelto questa musica? Eh, perché ci pensavamo che era più adatta per questo genere di video Ok Cioè, no proprio così Che era l'unica musica che poteva... Ma a chi è che piace la musica elettronica? A tutti voi? Si Ok, allora se staccate le cuffie mi fate sentire com'è venuto? Bye Bye Ciao 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 ok adesso oltre alla musica dobbiamo scegliere i suoni giusti giusti per il video ok chi è che sta tagliando e selezionando la musica? che a certe volte fa un casino però è lui il pratico che sa usare bene il computer ok ma vi è piaciuto? è divertente? l'avevate mai fatto di montare un video? mai